ciao a tutti oggi prepareremo le polpette di pane e patate il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono patate lesse pangrattato aromatizzato uova sale pepe parmigiano pecorino e prezzemolo diamo il via la ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano il pecorino e il prezzemolo ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere le patate il pangrattato aromatizzato le uova il pepe e il sale ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4 il composto è pronto formiamo le polpette formiamo le polpette prendere un po di impasto formare una pallina passarla nel pangrattato schiacciamola leggermente e posizioniamola su una teglia rivestita con carta da forno e continuare così per tutto il resto del composto una volta formate tutte le polpette cuocerle o in abbondante olio caldo fino a doratura oppure in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 20 minuti riorandole con un filo d'olio polpette di pane e patate polpette di pane e patate grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti